musica ok mi sto dirigendo verso diciamo la famiglia di Olin per salvarla alla fine ho deciso di fare così cioè farci questa missione qua i peccati, le colpe dei padri, si i peccati del padre insomma poi siccome la nostra destinazione della missione principale è qua in alto qua fine del creatore magari andiamo verso il collo lungo, l'ultimo collo lungo e poi continuiamo con la missione principale facciamo così magari così ecco visto che ho detto che per un po' faccio missioni principali anche se però l'ultima missione principale che abbiamo fatto era di livello 12 ma i corruttori erano di livello 18 quindi o il gioco si adatta al nostro livello oppure non lo so non lo saprei che era Tauro questo l'avevano già visto questo il che era Tauro scusate vado a vedere sì sì ci mancano tre macchine no quattro macchine da vedere da scoprire da scoprire va bene abbiamo raggiunto i grandi denti esplora i grandi denti parla con Olin vabbè vabbè dovrei parlare con Olin prima oh madonna chi è? oh madonna no 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 non ho fatto nulla porca vacca ma io passavo di qua cioè madonna cioè devastante quella macchina lì eh ma no mi ha caricato pesantemente vediamo dove ci fa ripartire ok da qua ok fermi tutti fammi vedere in giro ok non c'è nessuno vabbè meno male cavacca dicevo volevo parlare con Olin mi fate parlare con Olin eeeh qui è scusa aspetta ah no è di qua Olin ok trova a fare meglio uccide i cultisti allora Olin è di qua eccolo un giorno mi dovrei mostrare questo trucchetto le rocce vieni con me eccolo a ridosso dei grandi denti ok diamogli la possibilità di rimediare ovviamente sennò non lo lasciamo in vita troppo tardi ok ok qua devo parlarci ok ci siamo non posso sopportare di essere così vicino eppure è quasi fatta ma scusa il focus non lo ascoltano più di quanti uomini parliamo da quel che ho visto un bel po' armati e corazzati oltre agli arcieri sulle cime ma non c'è traccia delle loro macchine demoniache tu li hai osservati a lungo come possiamo entrare credi che se avessimo avuto un piano saremmo bloccati in questa situazione hai ragione attaccheremo da davanti in stile ozeram oppure sui fianchi o dal crinale magari tu puoi passare dai tetti non io sono troppo pesante facciamo mio modo come al solito dovrei andare da sola beh potresti farlo ma con l'eclissi c'è sempre una lama puntata alle spalle quindi ti coprirò io se vorrai mmm no lasciamo allora lasciamo qui o vado per i fatti miei dai vado no vado per i fatti miei prima che poi fa casino no tu resti qui seguimi quando finirà la battaglia oh ti seguirò ok perfetto allora si prima che poi magari fa casino spara frecce lui di sua volontà iniziativa senza che nessuno lo chieda andiamo per i fatti nostri allora quanti sono? un bel po' allora andiamo di la direi che c'è un passaggio ah ci ho visto già uno con le sacche esplosive va bene ok è girato da questo lato eh ah non m'ha visto non m'ha visto ok a proposito adesso devo fare una cosa prima che mi dimentichi che ho tre abilità da spendere e volevo spenderle per il colpo micidiale cioè potenza il 15% il colpo silenzioso colpo dall'alto o dal basso e attacco al potere ma mi interessa quello silenzioso così faccio più danni ok perfetto uh lì c'è uno col metagliatore coltista pesante la famiglia di Olin deve essere qui dentro si l'abbiamo trovata trovare ingasso della dispensa allora io andrei per sicurezza con le frecce di precisione visto che fanno più danni ok ok e lui gli diamo fuoco porca vacca ok basta adesso adesso esploderà mi stanno ancora cercando mi stanno ancora cercando mi stanno ancora cercando ok vai ho preso anche lui fuoco 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 stai fermo un attimo ah dai ha preso ha preso il la ringhiera a meno che no ma non penso ah non possono passare di lì le frecce non vedo niente ma adesso si è alzato ok l'ho messo a tacere ok ok ah cercherò di venire qua provatela momento io la sarai invisibile però vabbè non mi stanno vedendo tu ancora vuoi nasconderti nell'erba ah han capito che sono nell'erba si vediamo un po' che fa ecco veste in guardia adesso ok eh si non toglievano tutta la vita queste frecce sono diventate un po' scarse usiamo il fuoco va tanto ormai m'han visto oh si è spostato non puoi sfuggire alla giustizia aspetta e stai fermo tu ok quello è morto ahia ok sei alla fine sei alla fine te e no tre ok adesso muore perfetto perfetto oh beh il coso il mitraglione non mi serve usciamo il cinghiale non è morto? beh c'è un bug c'è un bug non muore il cinghiale non muore il cinghiale vabbè ok raccogliamo le cose va bene poi immagino sarà chiuso eh infatti uno dell'eclissi deve avere la chiave il capo forse no non voglio il il cannone aspetta no ah no ah no che tappo la fulminante pozione curativa che non ho mai ok frammento vediamo forse qua non ho spazio no la sacca delle trappole è piena sì ma non le uso praticamente mai le trappole proviamo a vedere questo no ok lui? oh abbiamo trovato la chiave bene adesso possiamo entrare andiamo andiamo ok eccoli qua abbiamo sentito il trembusto non sai una di loro chi sei? non temere sono venuta a prendervi non mi sono arresa ma temevo di doverlo fare è sicuro uscire adesso? l'eclissi non può più fermarvi allora è finita ho sognato di fuggire in mille modi diversi ma mettevo in pericolo mio figlio però sei viva l'hai protetto è quello che conta ora ora tuo marito vi sta aspettando olin andiamo andiamo trova olin beh spero non non si sia allontanato chissà dove voglio dire ok no è qua perfetto ok aspettiamo che arrivi o ci devo parlare aspetta eh ma dov'è? scusa dove sono? aspetta eh sono rimasti indietro? ah ok che stanno arrivando allora aspettiamo che che arrivino così parliamo tutto insieme ecco ecco la battaglia è finita olin ce l'hai riportato grazie non deve ringraziarmi ho molto da confessare ho fatto un patto col demonio e altri ci hanno rimesso e credi che non lo sappia li ho sentiti parlare ho sempre avuto le mani sporche di fango ora anche di sangue prendi tuo figlio con quelle mani adesso e torna insieme a noi alla conquista dovresti ascoltare tua moglie olin ma elis e i demoni per l'onore io ti aiuterò aloi con quel poco di onore che è un imbroglione come me olin non hai più debiti non mi devi nulla va con i tuoi mostragli chi sei ora addio aloi tua madre spero che la troverai prima di loro ok missione completata benissimo così anche olin è a posto allora adesso dobbiamo andare si deve andare su 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 in alto dunque il falò più vicino al collo lungo non ce n'è oh no si qua qua perfetto andremo qua che così vediamo anche l'ultimo collo lungo e tutta la mappa sarà svelata ma ma devo dire che le nuove munizioni non mi soddisfano molto eh preferivo quelle vecchie però comunque l'arco dovrebbe fare più danno in generale quindi penso di aver fatto bene a prenderlo al massimo poi vediamo cambiamo vediamo un po' che ci offrono anche i mercanti ah si poi a posto dei mercanti non ve l'ho detto ma ci sono vabbè anche se si notano poco perché insieme a tutte le icone non si vedono ma ci sono delle icone nuove si si ok qua si sono vicino alla missione questa qua va bene no ma io volevo andare al collo lungo quindi mettiamo un indicatore ci sono queste qua la statuetta Banuk è un altro collezionabile allora tutto qua ecco allora chiamiamo la nostra cavalcatura livello 24 raggiunto ok e andiamo eccoci siamo ci ho messo un pochino ad avviare fino qua siamo nelle vicinanze eccolo la del collo lungo oh quante macchine che ha intorno ah sembra il cimitero delle macchine questo però eh ma quanti rottami allora aspettate vado subito al falò che voglio che voglio ecco così almeno ho un punto di salvataggio nel caso muore è il collo lungo che sta trasmettendo il segnale ah ho già capito dove dove andare aspetta eh devo arrampicare sulla testa del collo lungo beh intanto la corsa non le allerta ho questa abilità quindi ottimo ok vediamo di abbatterla perfetto qua ce ne abbiamo un'altra non ci arriviamo aspetta eh se trovassi il calderone dove sono create potrei imparare a controllarne quale? questo è il manticero e cavolo non ci arrivo aspetta dobbiamo andare di qua eh magari da la vediamo ok vorrei arrampicare ma non si arrampica non c'è una scala ok da qui qui a posto ok 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 beh però è esistente questa eh andiamo ad allontanarci no 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 eh vabbè scusate vado su vado su ok meglio non farsi notare per ora eh ci han già ci han già notato ok aspetta ho sbagliato l'arma urca oh ho congelato quella in basso vediamo se riuscissi a salire sul collo lungo posso stare tranquillo che sta arrivando vediamo quando passa di qua ok bene sto bene ok uh m'ha preso porca vacca dai collo lungo si dia una mossa ok stordita eccomi ok ok adesso devo arrampicarmi sulla testa ok beh a parte un collo lungo dove c'erano parecchi banditi gli altri sono stati piuttosto semplici da raggiungere beh questo ci sono tante macchine però non è stato un grande problema madonna che ci dobbiamo fare qua però per salire stanno sparando a chi spero non a me ok 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 tutti i colli lunghi sono nostri praticamente fa vedere la mappa ok ok vediamo perfetto tutto il mondo è svelato ottimo va quante icone che si creano dobbiamo andare qua aggiungi i fili del creato è lontanissimo eh sì 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 va bene va bene va bene ok anche se qua c'è un falò c'è una casetta vado qua ce n'è da esplorare per ora ho esplorato bene bene solo diciamo la prima mappa questa qua qua tutto il resto ancora non ho visto praticamente nulla ok beh allora mi dirigerò verso verso vabbè intanto mi calo giù ok mi dirigerò verso la missione principale si uh 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 non schiacciarci ok ok da quella parte va bene ecco che mi sto dirigendo verso la fine del creatore speriamo ma cosa a fine sei visibile come non so cosa vabbè ho detto ciao vai ok iniziamo a registrare da qui penso che mi sono spostato un po' nel caso accada qualche filmato o qualcosa non vorrei perdermi nulla di la verità no sto bagliando strada ok questi indicatori ogni tanto fanno un po' le bizze non si capisce bene speriamo no 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 quello lì madonna si è devastante quella bestia fine del creatore non è molto lontana olin ha detto di aver trovato l'immagine della donna che mi somiglia in un dispositivo antico se fosse mia madre perché dovrebbero esserci sui bracci così lontano dal territorio non capisco chi è? mi chiama Elisabeth Sobek ah tu mi stavi ancora spiando dal mio focus ok vai avanti che cosa sai su di lei? resta sui tuoi passi e molto presto la conoscerai come me forse meglio ma ti avviso fine del creatore invasa dall'eclissi per aiutarti ti ho lasciato qualcosa di utile fuori dalle rovine il tuo focus te lo mostrerà ok quindi questo qua beh ci aiuta ma chissà perché ho sempre diciamo non fermi fermi tutti ok allora a che punto siamo? ok siamo quasi arrivati ah prendi la scorta dell'equipaggiamento bene siamo anche vicino a una zona corrotta eh bisogna stare attenti ecco lì ci sta aiutando lo sconosciuto non ci viene non è neanche scritto chi è però almeno si dice la verità sappiamo il nome di nostra madre e secondo me non siamo una Nora siamo troppo diversi dagli altri mi sa secondo me no allora ah ok dagli altri Nora dico proprio dove aveva detto vediamo cosa ci ha lasciato bobina patricità ci abbiamo già il lanciacorde non male come scelta ne farò buon uso perchè fai tutto questo perchè voglio che tu ce la faccia buona caccia a più tardi sarà maledizione sarà mica nostro padre sarebbe logico che un padre voglia aiutare la figlia eh però mi sa che da qua in poi mi prendo da piedi eh ok facciamo troppo rumore ha detto che poi è pieno delle pieno di soldati dell'eclissi quindi eccoci vedete corrotte fanno da guardia l'eclissi e le macchine corrotte collaborano una famiglia felice eh si ok allora non so se dipenda dal livello o dal fatto che ho potenziato il colpo silenzioso ma l'abbiamo uccisendo un colpo solo cosa che prima non accadeva ok allora vediamo come aveva detto si quindi avrà visto anche lui con i suoi occhi chissà dov'è ma non mi sembrano tantissimi eh voglio dire ok quei sudici accattoni si sono portati via i tesori anni fa ma non le antichità sepolte ok allora usiamo sempre il nostro colpo di precisione visto che è più letale ok aspetta eh ok ah qui c'è uno là sono in due ah e c'è qualche vedetta eccola là quello è un cadavere dobbiamo risvegliare le macchine prima che la terra si geli di nuovo era glaciale ho un corpo da questa parte questi scavi sono immensi ma fide almeno è morto aspetta ok beh almeno so quanti sono così va bene non avete di meglio da fare trovato nulla? aspetta cosa ho visto no vabbè dai si è spostato un momento sbagliato come al solito se riuscissi a... l'ho preso? si adesso se esplode è fatta ok 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 no grazie sono già capace no volevo mirare bruciate ok una è morta ok ok anche questa perfetto sono rimasti in due oh ma quello c'è il serbatoio eh ah però è morto è morto ok no dai non ho ok ok te poi l'hai passato attraverso addio ma addio tu maledetto ok bene prendiamo tutto perfetto perfetto beh allora si secondo me è il nostro padre che ci aiuta il nostro vero padre ovviamente non roast devo andare lì no? ah no di qua ok non penso che non 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 ma non ho non non Grazie a tutti.